Oltre al calcio ho diverse passioni, a partire dalla musica, canto e in generale ho la passione per l'arte ed è una passione che condivido con Oppo, per cui la tecnologia è bellezza e innovazione. Ciao, sono Miriam Longo, sono un'attaccante della prima squadra femminile dell'AC Milan. La mia carriera calcistica è iniziata sin da piccola e ho subito dovuto confrontarmi con una realtà avversa in quanto sono cresciuta in una compagnia di soli maschi, non è stato facile guadagnare la fiducia dei miei amici però bastava solo che toccassi un attimo la palla affinché loro capissero che comunque ne sarebbe valsa la pena e anzi avrei potuto dimostrare le mie capacità. C'è stato un momento nella mia vita in cui non sapevo quale sarebbe stata la mia strada o meglio volevo sapere che tipo di persona fossi al di fuori del campo e quindi ho smesso per un anno poi ho capito che durante quel percorso in realtà il calcio è sempre stato il mio obiettivo fisso. Sono felice che Oppo punti riflettori su chi come me ha il coraggio di inseguire tutte le proprie passioni e di non precludersi niente raggiungendo tutti gli obiettivi. Questo messaggio è rivolto alle persone che hanno la tenacia di non mollare di fronte alle difficoltà perché sanno che ogni sforzo verrà sempre ripagato.